E' acqua calda e quando ce l'hai addosso e sei affogato nella pioggia ormai per chilometri ti accorgi della temperatura della pioggia ed è una cosa che in una vita di ombrelli e di impermeabili e di oggi prendo la macchina perché il medio dice che pioverà alle 5 noi non lo sappiamo più di che temperatura è la pioggia e la pioggia a volte è bollente ed è stupendo Bellissimo, io questo credo meriti un applauso questa affermazione cioè lo posso chiedere perché veramente delle volte ci...